La Corte di Appello di Bologna conferma la sentenza di primo grado. Gli agenti di polizia sono responsabili della morte di Federico Aldrovandi il 25 settembre del 2005. La Corte ha applicato l'indulto riducendo la pena. Il servizio di Matteo Parlato. Tutti colpevoli. La Corte di Appello di Bologna conferma la condanna a tre anni e sei mesi di carcere per la morte del 18enne Federico Aldrovandi. Ai quattro agenti di polizia, Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani e Luca Pollastri. Pena che per effetto dell'indulto si riduce a sei mesi. Eccesso colposo in omicidio colposo. Anche per i giudici del secondo grado la reazione dei quattro agenti è stata troppo violenta. Federico Aldovranni di 18 anni il 25 settembre del 2005 morì dopo essere stato fermato dalla polizia. La vicenda non è mai stata chiarita del tutto. Secondo la questura il ragazzo dava in escandescenze. Una volta ammagnettato e svenuto e poi morto prima che arrivassero i soccorsi. Inizialmente si era parlato di droga, poi di un malore. La madre del ragazzo denunciava invece un pestaggio da parte della polizia. Nel 2006 una foto pubblicata da Liberazione mostrava i segni di percosse sul volto del 18enne e riapriva il caso. Gli agenti si sono sempre dichiarati innocenti e i loro avvocati, che avevano chiesto l'assoluzione dei quattro, hanno annunciato ricorso in Cassazione. La tesi dell'accusa accolta dai giudici di primo e secondo grado è che il cuore del 18enne si sia fermato per un colpo inferto da uno degli agenti. Presenti in tribunale anche Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, il detenuto di 31 anni, morto in circostanze oscure. E Lucia Uva, sorella di Giuseppe, il 43enne di Varese, morto in ospedale anche lui dopo aver passato diverse ore nella caserma dei Carabinieri.